Ciao a tutti, sono Mauro della Motorpep. In questo video voglio mostrarvi una bici della gamma Lapierre eBike 2020. Nello specifico parliamo della Lapierre AM 4.5. Una bici destinata all'uso al mountain trail, con 150 mm di escursione all'anteriore e al posteriore. Una geometria non troppo estrema, un angolo di sterzo abbastanza chiuso, un reach compatto e anche un carro molto corto. Questo permette di avere una bici molto maneggevole e molto divertente nel guidato. Per quanto riguarda la parte elettrica troviamo Yamaha PVST 2020, abbinato a una batteria da 500 Wh integrata, un display LCD con 4 modalità di spinta, quindi abbiamo Eco+, Eco, Standard, Height e la modalità auto tenendo premuto il tasto più viene inserita. Qui in questo caso abbiamo una modalità simile a quella della Bosch, chiamata MTB. Il motore regola automaticamente l'assistenza in base al tipo di percorso. Per quanto riguarda la parte meccanica troviamo una forcella RockShox Gold da 35, 150 punto di escursione, un ammortizzatore LAPR proprietario con possibilità di aprirlo e chiuderlo ad aria ovviamente con la sua ghiera del ritorno. Cambio SRAM SX a 12 velocità, pacco pignoni 1150, freni Shimano a 4 pistoncini, modello 2020. Vediamo anche il gruppo leva. Molto belle le finiture di questa bici, in particolare le manopole, la sella originale LAPR. Troviamo poi delle ruote, anch'esse LAPR, a cuscinetti e sigillati. A detta di LAPR queste ruote, soprattutto la ruota posteriore, è molto più robusta e quando si va diciamo in fase di salita e in fase di spinta dovrebbe reggere molto di più la coppia del motore. Vediamo che davanti. Perno passante ovviamente davanti e dietro, reggisella integrato con filo nascosto dentro il telaio, di generosa escursione. La cosa interessante di questa bici è sicuramente il rapporto qualità prezzo perché viene offerta a 3750 euro a listino. Ovviamente noi abbiamo già delle nostre promozioni sul nostro sito, quindi se vi interessa potete andare a dare un'occhiata e nel caso potete mandare una mail o chiamare il negozio. Cordiali saluti!